Rieccoci, ci ritroviamo su YouTube dopo qualche tempo di assenza, vi ricordo comunque che potete continuare a seguirmi sia sul blog che sui miei profili social, sia su Facebook che su Twitter. Dicevo di nuovo su YouTube per un video in cui questa volta vorrei parlarvi dei probabili futuri acquisti che chiuderanno questo mercato delle tre strisciate, ovvero sia Juve, Milan ed Inter, partendo proprio dalla scuola di Torino, che l'anno scorso, come potete vedere sulla lavagna tattica, giocava con il 4-3-1-2 che l'ha portata a sfiorare, diciamo, la tripletta con campionato Coppa Italia e Champions League persa in finale. Dovrebbe essere questa ancora la conformazione tattica della scuola di Allegri che cerca però un trequartista per, appunto, completare il proprio scacchiere, perché Pereira è l'unico che può ricoprire efficacemente questo ruolo, ma ben sappiamo che non è neanche un trequartista puro. Vorrei però parlare di altri due possibili arrivi, ovvero sia Montolivo e Quadrado che ha fatto le visite mediche proprio oggi, quindi ormai potremmo dire essere ufficiale, ufficialmente un giocatore della Juventus. Montolivo che, secondo me, molti hanno parlato appunto di lui come possibile alternativa low cost al trequartista, mentre io credo che possa essere l'alternativa low cost a Marchisio, ovviamente nel caso in cui decida di accettare la corte della scuola torinese. Juventus che il centrocampo a tre, dal mio punto di vista, lo userà un po' a prescindere da quello che sarà il modulo appunto scelto da Allegri quest'anno, sia che si usi il 4-3-1-2 che il 3-5-2 mostrato da domenica contro l'Udinese, che è ancora il 4-3-3 che potrebbe utilizzare, lo vedremo proprio grazie all'arrivo di Quadrado, qualora non arrivi anche un trequartista. Dicevo, centrocampo a tre in cui la Juventus a Marchisio come vertice basso, che già l'anno scorso dimostrò di non far rimpiangere Pirlo proprio in questo ruolo, ci potrebbe essere che dirla, che però è un centrocampista box-to-box più che un regista, nel vero senso del termine, più che un giocatore capace di dettare i tempi, e appunto potrebbe secondo me utilizzare Montolivo in questa posizione, laddove nell'ultima partita è stato usato Padoin con, l'abbiamo visto, diciamo scarsissimi risultati, ma del resto Padoin si sa che è più un esterno, sicuramente non un giocatore in grado di dettare i tempi. Montolivo che ha giocato spesso mezz'ala, ma che dal mio punto di vista potrebbe appunto essere l'alternativa low cost a Marchisio per il ruolo di centrale di centrocampo, in un centrocampo a tre. Quadrado invece, dicevamo, potrebbe sicuramente in primo luogo fare l'ala destra nel momento in cui la Juventus dovesse decidere di passare al 4-3-3, con quindi appunto un Mandzukic o Morata come punta centrale, Quadrado appunto alla destra, e a questo punto probabilmente Coman difficilmente potrebbe essere titolare sulla sinistra, si potrebbe adattare Dybala, che sappiamo non è certo un'ala sinistra, ma che potrebbe fare, diciamo, una seconda punta allargata, con magari in fase di non possesso, la squadra che potrebbe vedere Quadrado scendere sulla linea dei centrocampisti e Osturaro Pogba, a seconda di quello che poi sarà la scelta per quanto riguarda il centrocampo da parte di Allegri, a coprire e presidiare la fascia sinistra, dove ricordiamo, dovrebbe giocare nel ruolo di Terzino Alex Sandro, appena arrivato appunto dal porto. Un'altra alternativa per quanto riguarda sempre l'utilizzo di Quadrado alla Juventus potrebbe, perché no, a mio avviso essere, diciamo, fluidificante nel 3-5-2, un 3-5-2 che, a differenza di quello che fu di Allegri, diventerebbe quindi sicuramente molto più offensivo con un'ala offensiva appunto a giostrare come fluidificante Quadrado, che lo ricordo, ad inizio carriera giocava Terzino puro, pur con qualche difficoltà in fase difensiva, ma che dal mio punto di vista potrebbe ricoprire quella zona di campo, anche perché ha sicuramente un grande atletismo un po' come Licksteiner, ma in più rispetto al Terzino svizzero, ha sicuramente più freschezza e, indubbiamente, una capacità a propensione offensiva maggiore e dei piedi, che pur non essendo raffinatissimi, sono sicuramente migliori di quelli dello svizzero. Difesa quindi che si potrebbe comporre, come visto, domenica contro l'Udinese con Barzagli, Bonucci e Chiellini, appunto Quadrado da una parte e l'altro nuovo arrivo, Alexandro dall'altra, Marchisio davanti alla difesa in un ruolo che potrebbe appunto essere ricoperto anche da Montolivo qualora arrivasse, due mezzali, una delle quali sicuramente sarà Pogba, e poi davanti Mandzukic con o Morata o di bala supporto, per una squadra che sono sicuro non soddisferà un atteggiamento tattico che non soddisferà la maggior parte dei tifosi giuventini, ma che dal mio punto di vista potrebbe sicuramente risultare una alternativa interessante per quanto riguarda appunto l'eventuale utilizzo di Quadrado. Questo va detto soprattutto nel momento in cui non dovesse arrivare, come dicevo ad inizio video, un trequartista per la Juventus. Venendo al Milan, con l'arrivo di Mijailovic, anche i rossoneri hanno deciso di passare al 4-3-1-2 dal 4-3-3 di Inzaghi lo scorso anno, quindi dovrebbero utilizzare lo stesso modulo della Juve, fatto salve i discorsi che facevamo in precedenza, dell'arrivo di un trequartista in quel di Torino. I due giocatori di cui voglio parlarvi sono uno Balotelli, che praticamente appunto ormai è arrivato in rosso-nero, ha fatto stamattina le visite mediche e dovrebbe essere ufficializzata a breve, e l'altro Soriano, un giocatore che ben conosce Mijailovic e che appunto il tecnico serbo vorrebbe portare in rosso-nero. Balotelli io credo che nel Milan potrebbe trovarsi a fare la seconda punta in appoggio alla prima, ovvero sia immagino Carlos Bacca, con appunto Balotelli che in questo senso potrebbe agire da secondo violino, che secondo me tutto sommato potrebbe essere il ruolo migliore in cui si potrà fare ad agire Balotelli, nonostante la stazza che farbbe pensare più ad una prima punta. Va detto però che Balotelli ha proprio nella tattica, nell'intelligenza tattica, il suo limite più grande dal mio punto di vista appunto su un campo di calcio, e quindi sarà molto interessante vedere come riuscirà ad adeguarsi, ad adattarsi a questo ruolo. Indubbio dire che Mijailovic dovrà provare a insegnargli qualcosa, e a 25 anni certo, diventare, passare dall'essere, non dico tabula rasa, ma sicuramente da avere grosse lacune tattiche al diventare una seconda punta in grado di fare al meglio tutti i movimenti che è richiesto al ruolo, sicuramente non sarà semplice. Soriana invece dovrebbe agire qualora arrivasse da trequartista, trequartista tattico perché l'ho già dimostrato proprio in quella di Genova a Sponda d'Oriana, è un giocatore nato mezzala, quindi comunque più un centrocampista alla Bertolacci per restare in casa Milan, un giocatore però che si è saputo adattare anche trequartista, che non ha tanto l'ultimo passaggio inteso come numero 10 pure in grado di rifinire, ma sicuramente sa aiutare molto la squadra anche in fase di non possesso, e da qui il fatto che può diventare un trequartista utile alla squadra in entrambe le fasi di gioco, sia comunque può dare un supporto anche ai due attaccanti, perché no provare a inserirsi. In dubbio che in questo senso anche Buonaventura, che è già un giocatore del Milan, potrebbe essere molto adatto, tanto è vero che personalmente ritengo Soriana non il colpo migliore per quello che riguarda il centrocampo del Milan, che avrebbe più che altro bisogno di un giocatore in grado di dettare i tempi, di porsi appunto in questa posizione di centro mediano in cabina di regia al posto di De Jong, che sicuramente aiuta molto quando si tratta di ripiegare e di fase di non possesso a fare filtro davanti alla difesa, ma che indubbiamente ha grossissime lacune per quello che riguarda la fase di costruzione. Quindi personalmente più che un Soriano, che potrebbe comunque fare anche la mezzala, assieme a Bertolacci e a Poli e ad altri giocatori della Rosa, prenderei un giocatore appunto in grado di posizionarsi al posto di De Jong per fare anche fase di costruzione di gioco. Veniamo all'Inter, schierata in questo momento ancora con un 4-3-1-2 che sembra andare molto di moda quest'anno in Serie A. 4-3-1-2 che è dovuto al fatto che l'Inter in questo momento non ha esterni offensivi, quindi difficilmente potrebbe fare moduli differenti. 4-3-1-2 però che potrebbe cambiare diventando ad esempio un 4-2-3-1 al momento in cui dovessero arrivare dal mercato due esterni. Si parla infatti di Persic a sinistra e la Vezio Lame a destra, in questo caso si potrebbe provare a fare appunto un 4-3-2-1 con due mediani in grado di schermare e dare nerbo al centrocampo, quindi come con Dogbia e Medel, anche se poi sicuramente ne risentirebbe la fase di impostazione visto che nessuno dei due ha grandi doti di costruttore di gioco. Uno Jovetic o un Hernanes sulla tre quarti, quindi che dovrebbero ovviamente anche tornare per andare ad aiutare i due centrocampisti a costruire il gioco, sulle fasce appunto di eventuali nuovi arrivi e davanti i cardi. Sicuramente da questo punto di vista la squadra potrebbe, nel momento in cui Mancini riuscisse a lavorare a dovere sui uomini a disposizione, trovare con questo modulo un interessante profilo di gioco. Anche perché l'alternativa potrebbe essere quella di giocare con il 4-3-3, quindi arretrando il tre quartista stabilmente sulla linea dei mediani per non fare soltanto legna, ma appunto mettere anche un giocatore come dal mio punto di vista dovrebbe essere Nukuri, che mi sembra l'unico in grado di farlo, o Hernanes, che però sappiamo bene che poi in fase di filtro davanti alla difesa ha grosse lacune, quindi appunto un 4-3-3 con i due esterni offensivi a supporto di Cardi, in questo modulo però non si capirebbe a questo punto l'arrivo di Jovetic. Quindi personalmente, se dovessi dire la verità, credo che mi orienterei più che altro sul 4-3-1-2, senza acquistare i giocatori di cui si sta parlando in questo momento, ovvero sia gli esterni offensivi, visto che poi rimarrebbero praticamente gli unici assieme a Biabiani in rosa per l'Inter, ma acquistando magari anche qui, esattamente come per il Milan, un giocatore in grado di fare gioco, di porsi in cabina di regia come mediano per dare una mano al centrocampo, ma appunto anche dettare i tempi alla squadra, e possibilmente anche una punta, nel senso che comunque come seconde punta ci sarebbero Jovetic, e eventualmente Palassio come prima punta c'è soltanto i Cardi, purtroppo lo sapete, l'Inter ha anche dato via Bonazzoli alla Sampdoria, e quindi non ha neanche quella giovane da poter usare come alternativa alla punta argentina. Questo è come, dal mio punto di vista, potrebbe cambiare l'Inter, ma come sinceramente cambierei io l'Inter, a differenza di quanto pare si stia avvenendo sul mercato. Ancora una volta vi ringrazio di avermi ascoltato per questi minuti, vi invito a seguirmi sia sul mio blog, che su Twitter, che su Facebook, e alla prossima!